Quella della povertà educativa è una piaga che caratterizza varie zone dell'Italia. Un rapporto di Open Police ha deciso di affrontarla a livello locale analizzando i numeri della sola Lombardia e scoprendo che anche all'interno di una sola regione le disparità sono ingenti, soprattutto per quanto riguarda l'informatizzazione delle strutture. Di povertà educativa e dell'approccio con cui si è scelto di sviscerare la questione parliamo con Chiara Saraceno, onorario fellow al collegio Carlo Alberto e soprattutto coordinatrice dell'Alleanza per l'infanzia. Buongiorno professoressa e benvenuta sul Bolive. Buongiorno. Ecco, in che modo il fenomeno della povertà educativa potrebbe essere legato al territorio? Cioè ha senso affrontarlo con un approccio locale? Assolutamente sì, ma anche forse vale la pena dichiarire che cosa si intende per povertà educativa, che ha due dimensioni, una relativamente all'offerta di risorse educative e l'altra invece relativa agli esiti della povertà di risorse educative. Sono due cose diverse. Save the Children da anni pubblica dati su queste due dimensioni. In Italia è stata la prima istituzione che ha proprio sviluppato questo concetto di povertà educativa mettendo appunto una serie di indicatori insieme a un comitato scientifico di cui ho fatto parte anch'io, ma anche Enrico Giovannini, Andrea Bandolini e ad altre persone. Allora, quindi se noi guardiamo alla povertà di offerta, noi guardiamo alle disponibilità di strutture scolastiche, ma anche la qualità delle strutture scolastiche, se ci sono laboratori, palestre, la densità delle aule e ultimamente appunto, che è uno degli indicatori utilizzati da open police, anche se le scuole sono informatizzate, se hanno le connessioni, se hanno gli strumenti informatici necessari, ma non è solo quello, ci sono scuole che non hanno neanche la palestra, oppure non hanno il servizio mensa. Poi ci sono le scuole, ma c'è anche l'intorno sociale, la comunità, cioè il fatto che ci sia disponibilità non onerosa, perché stiamo parlando di persone di povertà non onerosa, per esempio per fruire di attività sportive, piscine, calcio, quindi la vicinanza anche alle istituzioni culturali e così via. Questa è la dimensione dell'offerta. Quanto alla dimensione invece degli esiti della povertà educativa, di solito sono misurati da indicatori relativi allo sviluppo cognitivo e anche alla sicurezza in se stessi. Sviluppo cognitivo ci sono i test PISA o altri, anche invalsi, che misurano la capacità di comprensione di un testo, di articolazione di un discorso, ovviamente in base all'età e anche invece la comprensione e la capacità di sviluppare ragionamenti logico-matematici. Ora noi vediamo, ahimè, non solo in Italia, che c'è un rapporto tra essere in condizioni di povertà economica, avere genitori anche a bassa istruzione, che quindi non hanno sempre le competenze o le capacità per arricchire o per accompagnare la crescita cognitiva dei propri figli, non necessariamente ci sono genitori bravissimi che sono, a prescindere dal loro livello di istruzione, sono colti e bravi, però, come dire, l'aver pochi libri in casa e vivere in condizioni anche difficili e lo sviluppo cognitivo in base all'età. Quindi si può misurare l'esito in termini di povertà cognitiva da questo punto di vista. Allora, l'Italia è uno dei paesi in cui il divario tra bambini e ragazzi, che vivono in condizioni disagiate e anche in aree del paese disagiate e invece quelli che sono in condizioni migliori è più ampio. Questo vuol dire che la società, a partire dalla scuola, è meno capace che in altri paesi di compensare i divari che derivano dall'origine sociale. Quindi evidentemente c'è una offerta educativa in termini di istituzioni scolastiche, anche di istituzioni culturali e anche di tempo libero, insomma di extracurricolari, meno capace di compensare gli svantaggi che derivano dal fatto che una famiglia se lo può permettere meno di un'altra di arricchire il curriculum della crescita dei propri figli. E quindi questo dà la dimensione territoriale, perché le scuole sono sul territorio, le risorse di tempo libero e extracurriculare sono sul territorio e così via. Proprio l'ultimo test invalsi aveva mostrato come non solo ci fossero divari territoriali, ahimè ben noti, tra centro nord e sud, ma anche all'interno di ciascun ambito territoriale, addirittura all'interno di una stessa città. Se non ricordo male Milano era proprio uno di questi esempi. Infatti soprattutto per l'informatizzazione a Milano, a seconda anche della banda che prende, ci sono delle fortissime differenze. Sì, devo dire, però non era solo, mi permetto di dire, non è solo un questione di informatizzazione. No, no, era in generale. La informatizzazione è diventata cruciale in quest'anno drammatico della pandemia, dove se uno non aveva accesso non aveva accesso alla didattica to-cur, doveva stare a casa. Però i dati di invalsi, eccetera, erano pre-pandemia e quindi è proprio un problema di strutture scolastiche, ma anche di intorno dell'ambiente, dei quartieri, che cosa possono offrire oltre alla scuola per l'arricchimento, per la crescita dei ragazzi che ci abitano. A questo proposito, noi appunto quest'anno ci siamo trovati ad affrontare una digitalizzazione forzata della formazione. Al netto della situazione di emergenza, questa secondo lei è più un'opportunità da sfruttare o un'eccessiva semplificazione del processo educativo? Tutte e due le cose mi verrebbe da dire, nel senso che sicuramente non possiamo pensare che tutta la didattica possa venire a distanza o per vie digitali, perché l'apprendimento, l'educazione, la formazione ha molto a che fare con le relazioni, non solo con le relazioni agli studenti e insegnanti, ma anche degli studenti tra di loro, il confrontarsi, il collaborare, tutte cose che sono mancate, così come è mancato anche il fatto che la scuola potesse uscire da se stessa, le visite culturali e tutte queste cose. Quindi pensare che basti la didattica a distanza per sostituire ciò che, anche in modo spesso inconsapevole da parte dei soggetti coinvolti, avviene dentro la scuola e intorno alla scuola è una semplificazione. Però è stata anche, se ben utilizzato, una grandissima opportunità, perché oggi ormai viviamo in un mondo digitalizzato, quindi innanzitutto è stata un'occasione, o dovrebbe essere utilizzata come un'occasione, per anche un'educazione all'uso degli strumenti digitali, innanzitutto, e poi anche per un arricchimento, perché quello che c'è sul web, per cui si può utilizzare il web anche proprio in termini formativi, di apprendimento, di scoperte di piste nuove, di risorse nuove, è enorme. Mi chiedo quanto, cioè quanto la scuola, anzi la scuola era assolutamente impreparata per questo gli insegnanti, al di là di singoli che invece erano impreparati, non è colpa di nessuno, sì è colpa forse di, come dire, di una mancanza di lungimiranza nel passato, nel rendersi conto che questo comunque era la via da perseguire, cioè l'utilizzare il mezzo digitale come parte integrante, anche se non esclusiva, dei processi formativi, ma comunque così è andata, sarebbe drammatico se si continuasse a pensare che il digitale è solo questa cosa di emergenza e che non richiede un pensiero, una riflessione che coinvolga tutto il mondo di fare didattica da adesso in poi. E digitale a parte, qual è la problematica o le problematiche più urgenti da affrontare per far fronte a questo problema della povertà educativa? Sicuramente innanzitutto bisogna cominciare a metterla a tema come problema strutturale, sia del nostro paese, sia del modo in cui si creano e riproducono le disuguaglianze anche da una generazione all'altra. Quindi dovrebbe essere un problema centrale per la scuola e in generale per l'istruzione e l'educazione, perché noi sappiamo ormai una letteratura internazionale ce lo conferma e anche alcuni dati esistenti per l'Italia che nascere in una famiglia svantaggiata produce un rischio altissimo di essere svantaggiati nel corso della vita, cioè nascere in condizione di povertà materiale è molto predittivo di una condizione di svantaggio di tutta la vita, soprattutto se non viene intercettata, che le disuguaglianze si formano già in epoca prescolare, quindi nei primissimi anni di vita, quindi bisogna intervenire precocemente. Intervenire vuol dire non che i genitori non sono capaci, non è un giudizio sui genitori più poveri, è un giudizio sulle condizioni di ristrettezza, di mancanza di risorse, è al di là di se stessi che hanno per far crescere armoniosamente i propri figli e perché i propri figli possano sviluppare appieno le proprie capacità. Per questo noi anche come alleanze, come tutte le reti che si raccolgono dentro un contenitore che si chiama Educazioni, abbiamo anche prodotto documenti, anche suggerimenti per il PNR, cioè per il Piano Nazionale di Resilienza, perché si investa moltissimo sulla primissima infanzia, sui servizi educativi per la prima infanzia, così come si investa moltissimo per il tempo pieno, perché, che non vuol dire una didattica, cioè moltiplicare per otto ore le lezioni di italiano, geografia, eccetera, ma vuol dire arricchire, avere tempo per un curriculum scolastico ricco e anche disteso, ma contemporaneamente anche si chiede che la scuola si apra alla comunità e la comunità alla scuola per collaborare, per arricchire, si parla un po' di comunità educante, di patti educativi territoriali, queste cose qui, per sostenere e arricchire il curriculum di crescita dei bambini. Quindi le famiglie che se lo possono permettere lo fanno già normalmente, no? Per lui si mandano i figli qua e là, gli si fanno fare delle cose, gli si porta a teatro, gli si porta a fare i viaggi e così via, che è un modo di arricchire il loro curriculum, le risorse di crescita. C'è chi può farlo, ma c'è chi non può e non è colpa sua, e non è un suo limite di incapacità genitoriale, è piuttosto un fatto che mancano le risorse e quindi queste risorse vanno garantite dalla comunità in una società democratica. L'articolo 3 della Costituzione dice che la Repubblica ha il compito di eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo delle proprie incapacità. è una cosa molto all'amartia sen, ecco, questo è il compito che noi abbiamo verso le nuove generazioni.